In Germania i vertici del partito socialdemocratico approvano la linea del segretario e vice cancelliere Sigmar Gabriel in favore dell'accordo di libero scambio CETA con il Canada. L'intesa era stata oggetto di un vertice tra Gabriel e il premier canadese Justin Trudeau a Montreal. Sabato scorso gli accordi di libero scambio tra Unione Europea da un lato e Stati Uniti e Canada dall'altro erano stati contestati in una serie di manifestazioni di protesta nelle principali città della Germania. Grazie per la visione!